E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video Già lo sapete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale perché manca davvero poco ai 300.000 iscritti Quindi dai raga iscrivetevi Sicuramente avrete notato che ho fatto delle piccole modifiche nel mio studio Ovvero ho aggiunto dei nuovi poster qua dietro Adesso si vede anche un pochettino di più il case, ho aggiunto dei piccoli gadget E ho modificato anche la disposizione della mia videocamera Infatti adesso lo studio si vede dall'alto mentre prima era praticamente super frontale Fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti cosa ne pensate Perché a me personalmente piace veramente un botto Oggi ragazzi andrete a vedere un video molto molto particolare Perché si riguarda Among Us ma non è un video come quelli che ho già fatto uscire sul mio canale Ma bensì un video con un format diverso ovvero nascondino Abbiamo creato questo nuovo format insieme ai miei amici con la quale gioco praticamente tutti i giorni E devo dire ragazzi che ci siamo divertiti davvero davvero tanto Tantissime urla, risate, divertimento, è stato veramente qualcosa ragazzi di epico Ho intenzione di portare altri video di questo genere se ovviamente a voi dovessero piacere Fondamentalmente abbiamo giocato nella prima mappa dove c'è solamente un impostore e 9 crewmate Gli impostori ovviamente hanno la visuale super ridotta mentre i crewmate hanno una visione molto ampia Questo perché almeno nel momento in cui vedi l'impostore che sta arrivando nella tua zona Hai modo di spostarti dalla posizione dove tu ti eri diciamo messo all'inizio L'impostore avrà un minuto di tempo per partire dallo spawn per andare a cercare i crewmate da uccidere Dovranno a trovare un nascondiglio e poi l'impostore dovrà appunto trovarli L'ultimo crewmate che rimane in vita è colui che vince Quindi niente ragazzi vi ricordo di iscrivervi anche su Twitch per non perdervi mai nessuna live streaming Dove mi trovate in live tutti i giorni per almeno 8 ore quindi seguitemi raga link in descrizione E la stessa cosa per quanto riguarda Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e godetevi il video e fatemi sapere cosa ne pensate Una buona visione No No Sì sì se lo vedi chi è No No E' Fra E' Fra E' Fra Ok è fra Ok hai tre hai tre puoi seguirci Peride No Dani però Dani No Io lo sapevo E' Vio E' Vio Zit 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 Sacrifica Dani No Lollo No 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 Ci posso andare No Non puoi Sacrifica Dani No, 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 no Tutti voi, mi sai Cil, 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 cil Siamo safe, siamo safe Ah, ma che c'è da? Ah, perché io? Ma perché io? Ce n'erano 80 Ma ce n'erano Ce n'erano 85 lì Ah, aiuto No, no, no Vai, 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 vai Lolo No, sei là Lolo, vai, scappa, 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 scappa Pensavo non avessi visto Vai, 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 Lolo Aia, aia, aia Lolo, 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 Betolo, Betolo Enter 10, Enter 10, Lolo Vai, 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 vai Lolo, sei morto No, Lolo, sei morto Ciao, ciao, Lolo Lolo, sei, you are fucking dead Lolo Lolo Finestra dove sei tu ora? Se lui aveva 0,25 è molto complicato da vedere Hai ragione Ma io 0,20 Dai, io faccio un po' le task, va Ha vinto? E vince Finestra dei ragazzi Sì, però Eravamo inglobati 8 di noi prende me Ma come c***o è possibile? È la mia volta, me lo sento? Io vorrei giocare Dai, dai, dai Io non sono Dai, sei la però Dani, Dani, ti fidi di me Vieni Allora, dopo le famate di prima no Però vieni lo stesso Allora, ci sta questo qua che è buono Oppure Come ne rimanere in open, secondo me Non posti stretti, secondo me, raga Open è meglio Tipo, secondo me Tipo, secondo me qua, raga Raga, 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 tutti qua Venite, venite, venite Ok, raga, fermi Immobili Ma non è che si vede il nome attraverso a sinistra? In realtà sì Non lo so Allora, come ne vorrei stare così? Allora, questa è la tecnica Ci dobbiamo split Ci dobbiamo splittare No E Lollo ci lascia E Lollo ci lascia Via, 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 via Via, 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 via Ragazzi, io proviamo qua No, non funziona qui No, non conviengono gli angoli, raga Conviene l'open Conviene l'open Fra fidati di me Lui c'ha 0,25 di vision Quindi se stai tipo qua Se stai qui Dovremmo riuscire a scappare Dobbiamo stare fermi noi ora Fino a quando non ci trovo Non possiamo muoverci Ma perché deve parlare? Oh, raga, ma io non vi trovo Sarebbe bello anche fare gli infami E dire dove è uno, comunque Da cremate Per vincere Sarebbe bellissimo Ma non puoi dire, Diego No, ma infatti sono ferma Martì Vai, 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 vai Ma guarda che schifoso Hai visto che è bel corpicino, lì, Martì? Porco, 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 porco Uno contro uno Uno contro uno Sym e Martina 1-1 Martina Sym e Martina Contro Sim Però Sym È un po' scarso Martì, perdono Martì, no, no Ti congiò di no Ragazzi, muoio Ragazzi, mi injections Raga però Ma andate a fare il p***o Ma allora Se io rimanevo per i c***i miei Non morivo Io Marti ti consiglio di uscire da lì Sì Impostore ragazze Axe Axe ti ammazzo subito Axe ti ammazzo subito Via 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 Voglio la concentrazione Grazie mille la suspense Ok parto ora Mi proseguo Ah qua sembra clear Ok qua è clear va bene Tranquilli ragazzi Mi serve un po' di concentrazione Grazie mille che qua Qualcuno qua secondo me ci sarà Ah Parti Voglio la mia vendetta Vieni qua bimbalo della Bimbalo della No no Ahia finestra tu mi hai ucciso prima Tu mi hai ucciso Che bravo Che sei finestra Davvero guarda molto bravo Molto carino Però you need to die You need to die No no Martina We prosegue We prosegue Non è possibile Ma non ci vuoi È possibile Ciao Axe Alla tutta bene Tu mi hai ucciso due volte Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Next Sapisci? Ma l'hai visto Una di sera No no Ah ciao Fra Tutto bene? Fra tu mi hai ucciso Il game una volta Vieni qua Peeeee Quando mi ammazzo Sì vedo Aaaaaah Lollino bello No no Ma che stai Rega da 25 metto No poi Straspami Ma aspetta Ma aspetta Ma ferma un secondo raga Ma il primo Ma il primo Ma il primo che c'è Si è stato Dani? Sì Sì Ma che manca Axe? Manca nel line Axe è l'acqua E io e io Allora Tra i due Tra i due Voglio ammazzare Electro Vi giuro Tranquilli ragazzi Tanto vi trovo Ok Ok devo ammettere Che gli ultimi due Si stanno nascondendo Abbastanza bene Però Martì non è vero Martì no Non è vero Non mi sembra proprio Un bel nascondiglio È un Che è? Siamo qui Un nascondiglio No è buono Perché puoi vedere Tutto No non è buono E ammazza lui Vai a dormire Bimbo Nutè Sono io ragazzi No perché Non posso Non è buono Crewmate Chi è lì Vado Fra Fra ti prego Fra noi siamo buoni amici Ricordati questa frase Grazie Martì 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 Qua Proprio qua No no Ragazzi Ragazzi Il sapore del rischio Del sangue Tranquilli Quando parti Però Dio Dai fra parti Fra parti vai Vai fra Por No Ma for Xela Xela Vai 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 Ragazzi questo Questo è il sapore Martì Martì Dai 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 Ho paura Vai Dani Corvo Io ho paura pure io Ok Lol e Corvo In realtà non è male così Dani fermati E niente Vabbè No perché viene da una Però è meglio sotto Martì No io non riesco Siamo anche a me Doveri sacrificare per me Ragazzi Se tu scappi scappi Vai 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 Perché me Vai 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 Corico 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 No no Martino Eh però non posso muovermi Capito ormai Basta fuori corri 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 sei faccio bene se mi sa di no il dà è scomparso no 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 la sacrificati Instagrificati! Faccio la task un secondo, faccio la task, fermi. Faccio la task. Task fatta, perfetto, vinciamo. Dunque Dani, secondo me è meglio tipo così. Dani, te l'avevo detto, io te l'avevo detto. Eh, Xela, attento. Farò di stare fermo. Eh, lo so, lo so. Chi manca? Io, Xela? Che basta. Che basta. Oh no. Ma corre! No, no, questa volta, questa volta. L'ho visto soltare anch'io. Ma no, ma non pe- Mi sa che vinco io? Sì! La vince da crewmate! Video fatto! 10 minuti, eh, ragazzi. Scriviti al canale. Ma chi, vai con la monetizzazione. C'è che c'è il commentino in là.